L'Ebolitana retrocessa dal campionato di Serie D al termine dell'ultima stagione sportiva non si è iscritta in eccellenza, in attesa dei ripescaggi in D, per cui in Lizza Lagropoli, il club della Piana del Sele, a tempo fino al prossimo 26 luglio per regolarizzare la posizione. Nessuna soluzione è stata trovata nelle ultime settimane, dopo che i dirigenti di missionaria avevano consegnato il titolo sportivo al Comune. Nelle prossime ore potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di ripartire dalla promozione, oppure dalla prima categoria. Richiesta di riammissione in eccellenza presentata da Alfaterna, Picciola, San Vito Positano, Mariglianese e Sant'Agnello. Intanto Lagropoli con 21 punti è quarta nella classifica del ripescaggio in D, dietro classe Cannara e Villafranca, e fino al 26 potrà addurre motivazioni per aumentare il punteggio. Al momento è in bilico per essere promossa in D. Grazie a tutti.